fare quattro vittorie di fila oggi sarebbe stata una cosa stupenda peccato peccato però bisogna pensare subito alla prossima questa è andata siamo stati anche un po sfortunati non l'abbiamo affrontata bene pensiamo alla prossima l'impatto alla gara non è stato come 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 sempre come siamo abituati a fare il risultato comunque un po bugiardo perché comunque abbiamo preso gol su errori disattenzioni nostre bisogna rimboccarci le maniche e lavorare questi due giorni per affrontare al meglio la partita di domenica